L'ambasciatore d'Italia in Egitto, Michele Cuaroni, ha accolto il 3 dicembre al porto egiziano di Al-Arish la nave ospedale Vulcano della Marina Militare Italiana, che curerà a bordo decine di feriti palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza. L'operazione, informa l'ambasciata, ha richiesto uno sforzo congiunto di Farnesina, Difesa Intelligence, in stretto raccordo tra l'ambasciata d'Italia al Cairo e le autorità egiziane. Un'operazione assolutamente complicata quella che vede in campo una delle unità navali più innovative della nostra Marina Militare, che risponde alle direttive del Governo per prestare soccorso alla popolazione civile con attrezzature e professionalità mediche allo stato dell'arte. Ma la Marina Militare Italiana continua a essere ampiamente utilizzata nei bacini orientali del Mar Mediterraneo sia in missioni prettamente nazionali che in ambito NATO, fregate del tipo fremme, pattugliatori d'altura come sommergibili, partiti soprattutto dalla base navale di Taranto, incrociano in quelle acque a tutela degli interessi nazionali. Ricordiamo che oltre l'80% dei traffici commerciali del nostro paese va per mare e che i fondali raccolgono una mole impressionante di collegamenti energetici tra l'Italia, per esempio, l'Algeria, la Libia e i Balcani, ma anche i collegamenti via cavo che connettono via internet l'Europa al resto del mondo. Un lavoro complicato che vede in prima linea equipaggi della nostra Marina attrezzati per questo tipo di missione. Grazie a tutti.